Ciao ragazze! Ormai è già 15 di dicembre e insieme apriremo la casellina numero 15 del calendario dell'avvento di Essence Il calendario dell'avvento è questo qui, ve l'ho mostrato ormai in tutti i video di questo tipo La casellina numero 15 è questa qui, che stavo quasi aprendo quando ho aperto la casellina numero 10 Comunque è abbastanza corto e stretto, mi aspetto che sia un rossettino, almeno me lo auguro Dato che l'anno scorso avevo trovato due rossettini, invece quest'anno ne ho trovato per adesso solo uno Siamo quasi diciamo alla fine, abbiamo superato già due terzi perché comunque sono 24 casellina, siamo già alla 15 E niente, vediamo cosa c'è all'interno Purtroppo non ho trovato un prodotto per le labbra ma un prodotto per le unghie Ho notato che ho trovato tantissimi prodotti per le unghie in questo calendario dell'avvento E' di più rispetto a quelle dell'anno scorso Comunque la frase del giorno dice I'm dreaming of adorable nail polish Ed è questo smaltino qui E' lo 04 del Christmas nail story Praticamente della linea Love Trends Anche in questo caso ci sono disegnati i guantini Tutti praticamente degli sticker che danno tantissimo sul Natale All'interno ci sono 5 ml di prodotto e 36 mesi di PAO Quindi c'è abbastanza prodotto Il terzo smaltino comunque che trovo Questo è un rosso con tantissimo marroncino all'interno E' un borgogna molto molto scuro Che dà sul marroncino E' di quelle colorazioni che mi piacciono tantissimo utilizzare in questo periodo Sicuramente lo utilizzerò in periodo tipo gennaio Periodi del genere E non diciamo in periodo Natalizio dove sicuramente utilizzerò dei rossi Ma i rossi molto più accesi E niente, fatemi sapere cosa ne pensate Cosa pensate di questi smaltini Se li avete mai acquistati Come vi trovate Se avreste voluto delle altre sorprese in questo calendario Se vi aspettavate altre sorprese Se vi è piaciuto il video mettete un piace Ci vediamo domani Ciao